È un inizio anno drammatico per le strade siciliane. La cronaca ci porta sulla A19 Palermo-Catania, dove in poche ore si sono verificati due gravi incidenti, entrambi all'altezza di Buonfornello. L'ultimo sinistro, con due feriti, è avvenuto all'alba di questa mattina, quando il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 settentrionale Sicula, all'altezza di Buonfornello, nel Palermitano. Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano due feriti. Il traffico è stato deviato sulla bretella laterale. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. L'altro incidente si è verificato invece ieri pomeriggio ed è avvenuto sulla A19 Catania-Palermo, tra l'area di servizio oscillato e lo svincolo per Buonfornello, dove si è ribaltata un'auto con l'unico occupante rimasto lievemente ferito. L'automobilista ha perso il controllo della jeep che stava guidando ed è finito fuori strada. Nell'impatto con il guardrail il mezzo si è ribaltato, riuscendo comunque a rimanere all'interno della carreggiata. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto.